Allora, sono Giosuè Rota e sono qui per raccontarvi il nostro giro della Lombardia. Un giro che è durato cinque giorni, da venerdì 13 a martedì 17 luglio. È stato un giro che abbiamo pensato circa un mesetto fa e ultimamente poi abbiamo perfezionato, soprattutto quando abbiamo sentito che qualcuno delle province della Lombardia verranno appunto soppresse. Siamo partiti da qui da noi, da Gandino, siamo arrivati poi a Brescia e da lì a Desenzano e poi a Mantua. A Mantua poi siamo andati a Sabioneta e lì abbiamo dormito la prima notte. Il giro poi è proseguito appunto con, abbiamo toccato, dopo Sabioneta abbiamo toccato Cremona. Da Cremona siamo andati verso Lodi, da Lodi a Pavia e lì abbiamo dormito alla Certosa di Pavia ed è stato appunto il secondo giorno. Il terzo giorno è stato appunto scelto una domenica perché dovevamo transitare appunto nella metropoli milanese ed abbiamo dalla Certosa di Pavia raggiunto appunto Milano, da Milano Monza, Monza Varese, Varese Como e Como Lecco e ci siamo fermati a Mandello dell'Ario. Il quarto giorno invece siamo proseguiti da Lecco verso Sondrio, lì iniziavano le salite, siamo dovuti salire fino all'Africa e siamo scesi ad Edolo dove abbiamo dormito appunto per il quarto giorno. L'ultimo giorno da Edolo, anziché farla più breve, scendere verso l'Overe, siamo saliti sul passo del Vivione, quindi abbiamo fatto tutto il passo del Vivione, siamo scesi, risaliti sulla Presolana, il passo della Presolana e da lì appunto siamo arrivati ancora a Gandino per la foto di Rito e abbiamo finito in Città Alta. È stata un'esperienza molto interessante, abbiamo avuto modo appunto di visitare queste città che sinceramente, anche se non sono lontanissime da noi, non erano state perlomeno da me e anche dagli altri miei colleghi viste. Ritengo che quella che mi ha emozionato di più ovviamente è stata raggiungere il Duomo, il Duomo perché in bicicletta credo che sia una particolarità, ecco il motivo per il quale ci siamo andati di domenica e anche a scoprire città del quale praticamente non avevo mai visto nulla, Lodi per esempio, la stessa Varese. Le strade sono state tutte strade più o meno strade provinciali lungo il percorso, piste ciclabili pochissime all'eccezione di quella che da Pavia porta alle porte di Milano, con tutti i pericoli che ne consegue, insomma, con le macchine, il traffico e soprattutto anche il caldo di questi giorni certamente non ci ha aiutato. Non siamo digiuni da queste esperienze, abbiamo già fatto altri giri in bicicletta. Viene spontaneo chiedere allora quale sarà la prossima esperienza, visto che ce ne sono così tante in calendario? Esperienze prossime, io insisto che vorrei andare a qualche santuario importante, insomma, a Lourdes o a Međugorje. I miei colleghi non sono molto entusiasti dall'iniziativa, però chissà che un altro anno si faccia.